Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo alla scoperta di questa nuova collezione delle patatine San Carlo Junior, i braccialetti di Hello Kitty. Ecco qui come si presenta la confezione, veramente molto molto carino il disegno. In ogni confezione un braccialetto, qui c'è scritto. Qui dietro troviamo la checklist di tutti i braccialetti che sono 5, 5 diversi braccialetti. Hello Kitty sempre con te, proprio lei ogni volta diversa con i suoi splendidi braccialetti. Sono 5, collezionali tutti. Allora, apriamo e vediamo da vicino questi braccialetti di Hello Kitty. Allora, eccolo qui. Lo tiriamo fuori, il braccialetto. Eccolo qua, abbiamo trovato questo braccialetto di Hello Kitty. Eccolo qui. Eccolo qui. Quindi abbiamo trovato questo braccialetto qua, adesso ci mancano questi altri 4 per completare la collezione. Ecco qua. Tutti i braccialetti di Hello Kitty. Allora ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento sulle uscite delle collezioni delle patatine, ma anche degli ovetti e di tanto tanto altro ancora. Il canale è pieno zeppo di video, tante playlist ci sono e tante altre arriveranno, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale. È gratuito, non costa nulla. Invitate anche i vostri amici a farlo perché più siamo e più video arrivano e quindi più contenuti voi potete vedere. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. In descrizione vi lascio anche il link delle pagine Facebook e Instagram. Seguitemi anche lì per contenuti esclusivi che faccio solo apposta proprio per quei social lì. Il link del blog, se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!